Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. La depressione che ha interessato il centro-sud Italia, con piogge abbondanti anche all'estremo sud, si va isorendo sulle coste nord-africane. Sul meridione subentra un debole campo alto-pressorio che apporterà un discreto miglioramento del tempo. Il nord della nostra penisola, insieme a parte del centro, dovrà ancora invece fare i conti per qualche giorno a deboli impulsi atlantici. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo per le nostre regioni, per sabato 11 febbraio. Al mattino cieli per lo più soleggiati, con qualche velatura di passaggio nelle zone interne della Puglia e della Basilicata. Ancora la possibilità di piove vaschi al mattino sulla Basilicata meridionale e il comparto ionico lucano, in netto miglioramento nel corso della giornata. Qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino lucano. Per quanto riguarda le temperature, in rialzo di 1-2 gradi nelle massime, stazionare o in live calo le minime di 1-2 gradi. Mare da calmi a poco mossi, venti da deboli ai quadranti meridionali. Ed ora passiamo al nostro consuito appuntamento con la nostra foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questo splendido tramonto a Fontanelle, dove si trovano i laghi a Limini di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!